Eeeh, allora, sentite, dopo aver accumulato 4,4 milioni di visualizzazioni e ben 182.354 mi piace, oggi andiamo a fare la reaction alla mia prima partita su Fortnite. Sono passati solo 5 anni. Acuna matata ragazze e ragazze, ben ritrovati dal vostro Ciccio numero 89. Siamo, torna di qua, su un nuovo video, ma reaction, perché me la state chiedendo veramente in tanti, sulla mia prima partita di Fortnite, che, raga, io me la ricordo ancora. Io un bel po' più cicciottello nella mia vecchia stanza, con il mio Iron Man, che tra l'altro, ragazzi, è lì, semplicemente c'è quella palla ginnica maledetta. Voi ve lo so che me lo chiedete, questi due purtroppo si sono rovinati, non ci posso fare niente, questo era un regalo bellissimo di mio fratello. Signori, quanti like lasciate? Non lo so, decidete voi. Ritrovati dal vostro CiccioGamer89, mi avete scartavetrato i coglioni con questo gioco. Ecco, a posto. E io sono qua a provarlo. Link in descrizione per scaricare il gioco gratis. Massa, che professionalità. Tra l'altro, ma con quali luci, raga? Ero giallo paunazzo. Vabbè, bei vecchi tempi, raga. Stiamo parlando di Fortnite. Anzi, anzi, che è il microfono. Il nuovo gioco rilasciato dalla Epic Games. No, raga. Un nuovo gioco rilasciato dalla Epic Games. Se non sbaglio, è fantastico. Ma di che stavo a parlare? È una roba surreale. Tra l'altro, ho la maglietta bianca. Mi mancano giusto le strisce nere. Peccato. Comunque, sentiamo che ho da dire. Ho speso una venticinquina di euro. Oddio, raga. Ho speso una venticinquina di euro. E ho preso lo Skull Trooper e la Renegade Raider. Raga, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma questo è un video epico. Livello 1. Io, raga, sto impazzendo. Non ci posso... No, andiamo avanti. Ve lo faccio vedere. Ho speso questo quadro skill. E ho preso anche il macetto. È incredibile. Se sto giocando con il pad, non ho mai... Oddio. ...giocato. Vediamo come riusciamo a piazzarci in questo gioco, che tra l'altro è simile a molti giochi che ho giocato. Ad esempio, H1Z1. Però questo qua è molto più colorato. Uguale. Qua, vabbè, cominciamo a fare i cretini. Non so se lui ha preso la musichetta apposta. Bah, sì, vai. No, regaio. Siamo diventando gli amicoli incredibili. Poi questo lo potremmo fare anche live, eh? No, questo lo potremmo fare anche live. Ok. Rega, ma che mappa è? Una musica incredibile. No, vabbè, ma qua... Qua abbiamo... Ragazzi, qua si piange forte, rega. Deploy, deltaplano. Va bene, se lo dici tu. Ma se io non deploy il mio deltaplano, che succede? Cioè, va da solo o... Oppure no? Da stitipot, ragazzi. Poi c'ho questo deltaplano così carino io. Perché in realtà... Ho fatto questo video qua. Ma comunque, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Ma sto per morire, ragazzi. Ma sapete perché? Con tutto quello che poi è stato creato. Con tutto quello che abbiamo passato insieme. Con tutto quello che stiamo facendo insieme. Le guidi di Fortnite. Cioè... Porca puttana, c'è uno già che... No, rega, spettacolare. Devo ancora capire... Cioè, devo ancora capire. Non c'ho mai capito di niente. Non corre... È vero perché prima non si correva. Non è che... Uh! Uh! Quanto faceva danno? Ma quanto faceva danno? A noi va assolutamente bene. Quindi prima kill per noi. Dai, ecci! Se vede che io sti video probabilmente... Eh? Dai, ecci, dai. Dai, ecci! Dai, ecci! No! Ok, Luca. No! No, come? Uh! Quanto male! Signori, se voi credete che il ciccio che per 89... Si ferma così. Eh? Avete sbagliato. Eh, ma è la prima partita. Alzo le cuffie. E adesso... Eh? Ci lanciamo quasi subito, eh? Sì. Non subito, subito. Non subito, subito. Aspettiamo l'altro po'. È fighissimo. Molto, molto figo. È per quello che... Eh? Mi avevate chiesto di giocarci. Ma pensate la mavera scavo. Vai, vai, vai. Più cattivo. Più cattivo. Ok. Ah, ma io volevo scendere qui. Vabbè, pazzesco, raga. Le prime cosette. Eh? Anche se... Cioè la mitraglietta... C'è gente che si crepa male. Ah, questi sono i biglietti. Adesso mi viene di zompare per scavalcare, ma non si poteva. La mira, diciamo che va bene. Oddio, un po' alta. Un po' alta. Secondo me... Posso... No, regà. No, è bellissimo. All'avanti c'è un nemico, quindi io non so... No, regà. Troppo bello. Credo che ci sia... Se mi volessi a bruciare... Cosa sto facendo? È perché c'è una cassa, ci... Oh, mio Dio. Aha. Aspetta, però, com'è? Ma come, com'è? C'è scritto? No, vabbè. Oh. Aspetta. Eh, aspetta. Cioè, adesso con questo noi facciamo i culi, praticamente. Eh, eh, Mirko. Giustissimo. Ma la pozza quando ce la facciamo? Questo qua dovremmo fare i culi. Chiedo, eh. Chiedo. Praticamente. Chiedo. Ma qua già c'era qualcuno che costruiva. Pazzo? Ma regà, ma state a vedere come se... Ok. Guardalo, guardalo, guardalo. Rompici. Rompici. Noci. Noci. Dovevi rompere la scala. Non so se c'è la mira... Assistita. Ancora più mirosa. Ok, questo regà faceva un danno... Capisci che... No, esatto. Intanto c'è un simbello che stanno a giocare. Immagino che non switchavo neanche le armi. Ma il sovrascudo, C, ma quando te lo fai? Se lo voglio usare... Ah. C, è fermo. Madonna, 83. Oh, yes. Ma io volevo fare così, però non c'è il legno. Ma... Ok. Da questo qua io ci arrivo facendo così. Ma curati! Ma è certo. È band... È certo. Allora, raga. Eh. Qua potrei finire nella merda. Sì, perché hai il sovrascudo. Ma a me piace rischiare. Madonna, quanto rischi, C. C, no. No, C. No, 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 no. No, te prego, C. Ma che stai a fare? Devo ancora capire bene come funzionano... Ce n'hai uno dietro, C. Sotto. Fa sopra. Ah. 13. Oddio, oddio. Bravo, mi. Ok, è male. Oddio, che bella mira. Vai, 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 vai. Vai, vai, te prego. No, te prego, te prego. No. Sì. Oh, ragazzi. È stato incredibile. Eh. Ma lo scudo, sì. È stato incredibile, ragazzi. C'avevo anche le trappole. Ok, qua. Ho preso roba. Vi prego, mi dite di... Lo scudo. Ah, perché voi non vedete. Scusatemi un attimo. Voi non vedete. Guardate. Oh, lo scudo. Oh, yes. Sì, lo so, non c'ho Windows attivo, non rompete le palle. Il pompa blu, Mirko. Mirko, il pompa blu. Mirko, il pompa blu. Ma... No, 15, non riesco. Ma il pompa blu. Venga, mi hanno 26, ragazzi. Mi sta stricherando. Non so che cos'è. Pozione scudo, Mirko. Leggilo. Potenziamento scudo. Eh. Quindi io faccio così. Sì. E? Sì. Probabilmente faccio così. Sì. Bravo. Bravissimo. È così che si fa. Let's go. Dai. Ho capito adesso che con questo... Eh. Io farmo il legno. No, pazze. Oh, Mi. Te prego, Mi. Mi, Mi, Ti prego. No, non puoi morire così. Non puoi morire così. No, no. Che mira incredibile. No, sono morto. Sì. No, ci, non curate. Ci. È proprio una cosa che non si fa. Oh. No. E infatti sono morto. Perché mi è arrivato la dieta. È che ho capito le cose di questo gioco. Sì, la capite tutte. Madonna, raga. Ma che roba, dai. Ma che strano. Adesso qualsiasi gioco saremo molto più forti di adesso. In qualsiasi potuto... Madonna. Madonna. Ragazzi, qua è a colpi di macete. Uh. Pazzo. Pazzo ciccio. A colpi di botte. Pazzo ciccio. Se trovo un'arma sei morto. Ah, ci. Se trovo un'arma sei morto. Ah, ci. Se trovo un'arma... Madonna, quante hit? Io non c'ho paura di te. Io ti massacro. Che cosa sto facendo? Perché me la sto... Cazzo di arma. Uh. Quello c'è un'arma. Sì, quello... Quello... Nanna mia. Non puoi passare qui, Mi. Non puoi passare qui, Mi. Sono meno morto, sicuro. Sì. E quindi ce ne andiamo. Velocemente. Ok, un'arma. Ho trovato un'arma incredibile. Ma con quali... Vedete che cosa devo diminuire? Eh, la sensibilità magari. La sensibilità di mira. Ma signori, davanti a me io ce n'ho uno. Madonna. Non credo di riuscire a farmelo. Come mai, Mirko? Continuo a correre. Bello il deploy. Quello è... Tanta roba. No, ti ero nascosto. Dentro c'è spuglio. Non ci posso credere. Dentro c'è spuglietto così. Pesso di fango. Oddio, raga, me posso sentire male. Guardate dove stava sto Cristiano. Qua, sicuramente, ce ne andiamo. Eh, quello che cos'è, Mirko? Sicuro quanto vi pare. Eh? No. Mi, ma tu un po'... Ma... Oh, ma dove... 500 cinchinate mi sono arrivati addosso. Neanche una. 28. Quello ancora sta lì. Che poi all'epoca vincere era difficilissimo, regà. Cioè, all'epoca vincere voi non avete idea. Ma io devo vedermi la mia prima vittoria, eh. Per forza. Cioè, dobbiamo fare la reaction. Lasciate like se vi va. Ma è vero perché faceva danno man mano che andava... Era sempre più veloce. No, ma dai, che arma di merda. Ma mi ha distrutto. Oddio, scar leggendario. Io vado a morire ammazzato. Oddio, scar leggendario, regà. Fuori di testa. Ma con quale sensibilità, Mirko? Guardatelo, guardatelo. Cioè, questo lo dovrei distruggere. Madonna, con quale sensibilità? Uh, bravo, Mim. Oh, oh. Ma che facciamo? Ci vogliamo uccidere male? Eh? Lo slurp. Crediamo di rompere i coglioni. Perché? Perché? Che fai, mi? Perché adesso io... Ah. Non è... Munizioni... Eh, no. Non c'è i munizioni. Eh, sì. Senti, biondo. Eh. Guardatelo come sono cattivo. Quasi, eh. Non entra una hit. 39. Mi sta distruggendo. Caci tua. È dedusorella. Madonna. Ma guarda che... Vi ricordi... Uh, uh. Madonna mia, regà, ma non stiamo a parlare di niente. Che ci fai col medikit? Che ci fai col medikit? Che ci fai col medikit? Sì. Mi prendo questo. Sì. Bevilo. Ah, si può bere in corsa? Che f***iata. Pazzesca. Mio Dio, che bello. Ma perché? Ma prendi il pompa. Prendere, posso prendere. Ma prendi il pompa. Io ci direi con cecchino. Qua è interessante. Un po' più giù. 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 Credo che sia un po' troppo lontanusso, ragazzi. No, se poteva farmi. Eh. Stavo giocando a 60 fps, tra l'altro. Adesso io questo cosa... Sì, Mirko, se lo becchi così, guarda, dono 50 euro. Non è vero! Si, pensa che l'ho preso. Non è... Aha. Aha. Più sopra. Sì, sì. In realtà era un po' più sopra. Guarda questo, era tutto buildato, sto schifoso. Che pezza. Cioè, regà, qui col cecchino eri un god. Mirko, non c'è più nessuno. Io qua mi sono pure progettato una messa. Madonna. Ma che progettazione incredibile. È arrivata. Regà, ma ero indistruttibile qua. Cioè, proprio... Che fanno? Ma gli faccio una sorpresa di quelle incredibili. Madonna, che sorpresona. Guarda, non ci credo. Non ci posso credere. Non ci credo. Ma infatti va bene così. Dunque cascava un po' più giù il colpo, eh. Ma questo già buildava. Ti senti al sicuro, eh? Ti senti al sicuro, eh? Madonna. Un po' più su, porca puttana. Eh, niente. È andato. Fica se sta fermo, eh. Eh, come te, tra l'altro. Eh. Ipoteticamente, è qui dietro. Stiamo al sicuro. Stiamo al sicuro, 100%. Mirko. Mirko, togli il cecchino. Mirko, togli il cecchino. Mirko, togli il cecchino. No, granate. No. Vabbè, forse sì. Uh. 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 Ti prego, mi. No, perché so che perdiamo? No, Mirko. Combatti Mirko così di merda. Vai, Mirko, Mirko, Mirko. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oh, migliori. Non ci posso credere. Ancora. Non è una delle migliori. No, no, ma Mirko. Non potete ben vedere, però. Però. Il pompa non lo prendiamo. Vabbè, ma tanto. Non ci avrei mai preso, regà. Dinamo da muro. Non so che cazzo sia, regà. Eh, giusto. Però Mirko, occhio. Mirko, cecchino. Stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. Cecchino. Perché c'è uno stronzo là. Sì. Che ti voleva sparare. Io penso che sia sotto la montagna, Mirko. In realtà. Madonna. Guardami. Guardami. È andata, tifiu. Ma chissà quanto mi qualifico su sta partita. Io non mi ricordo di vincere. Mirko, ti prego, vai. Vedi come... Mirko, sotto di te. Mirko, sotto di te. Mirko, sotto di te. L'audio. Mirko, sei morto. No, Mirkè. No. No. Ragazzi. È la mia videocamera. Sono arrivato sesto. Sapete perché? Eh, perché? Perché ho dovuto cambiare la batteria di questa merda di videocamera. E ci hanno fatto, regà. Sesti. Incredibile. No. Signori, dobbiamo assolutamente andare a vedere la mia prima vittoria. Non me la ricordo. Io spero che il video vi sia piaciuto. È stato un tuffo nel passato incredibile. Non so se vi piace questo video. Lasciate like perché possiamo fare un po' di reaction a sti video qua. Poi al limite possiamo vedere anche le partite degli altri youtuber. Le loro prime partite. Vabbè. Che storia, regà. Ciao, belli.